Non ingrane il bitonto formato trasferta. Altra gara senza gol, ma davvero poco da rimproverare ai ragazzi del duo Santoruo Modesto. Vince una 0 la Paganese con il timbro di Orefice. Le ha, il giovane De Michele, le occasioni migliori per il pari, ma niente da fare. I nero-verdi restano penultimi con 21 punti. Ceobodo, in mezzo al campo del 3-5-2 con molliche prinari. Muscatiello si sistema in corsia. De Michele, scelto come partner di Capitano Campalazzo in attacco. Assapora un posto nei play-off la Paganese. A Govino rinuncia a Orefice dall'inizio, premiando Porzio con Mancino e Iannone in attacco. Inizio, di forte spinta campana, ma il primo reale brivido è bitontino. Gianfreda, con la gittata lunga, manda nel pallone il portiere esposito. Prinari si avvita, ma non abbassa a sufficienza il corpo. Risposta azzurro stellata. Fagliello punta Gianfreda, che concede pochissima luce al suo destro a giro. Palla fuori. Non succede altro nel primo tempo. Ripresa, che si apre col Bitonto in gol. De Michele, con una carezza, mette giù la palla e freddo esposito. Super goal, ma la bandierina dell'assistente frena la gioia del classe 2004. Pizzicato, in netta posizione di offside. A Govino manda in campo Orefice e l'ex Matera subito non perdona. La difesa del Bitonto apre una voragine al 3-2, condotto alla grande da Mancino Iannone e Orefice. Quest'ultimo prende il tempo a Stasi e deposita alle spalle di Diame l'1-0 paganese. C'è e come la risposta bitontina. I nuo entrati Coppola e Figliolia, in tandem, fanno recapitare a De Michele la palla dell'1-1, ma esposito e reattivo sul suo palo. Gran parata. Bitonto, insidioso anche da piazzato. Bella palla di Obodo per la torsione alta di Figliolia. Dall'altro lato, Coratella, aggira Diame, ma con lo scavetto Noluk non mette in cassaforte la partita. Non lo fa neanche Mancino nel recupero. Aggancia la verticale di Coratella, ma spara sopra la testa di Diame. Decisivo il disturbo di Gianfreda. Spazio ha un'ultima emozione targata a Bitonto. Tutti in aria. Obodo fa partire traversone. De Michele dà limite calcia, ma botta di un nulla oltre i pali, con il portiere esposito in modalità preghiera. Vince la paganese, che si arrampica a meno due della zona playoff. Per il Bitonto, tanto rammarico per non aver convertito in punti un'incoraggiante prestazione. Reduce da due vittorie consecutive tra le muramiche, nel prossimo turno i Neroverdi proveranno a beneficiare della spinta del pubblico. Al Rossiello, arriva il Matera.